Lui è Bernardo Salmaso, lui è Massimiliano Scantino. Sembra che sono dissostato, sembra che il sedino è spostato a sinistra. Scusa, qualcosa per bloccarmi di più ce l'hai? Qualcosa per bloccarmi di più ce l'hai? E' questo da mettere qua? Sì, sì, va bene. Meglio? No, perché quest'estate mi sono fratturato una costola sul fiardo. No, no. No, ok. No, non è vero oi farce nemmo do lupo Acelera, scusami Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. 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 a tutti.